in collaborazione con Autonoleggio Alidama Qualità e Assistenza San Benedetto del Tronto I Due Re Ristorante e Pizzeria Lungomare Piermanni Civitanova Marche Ready Car è a Chiesa Nuova di Treia Buonasera a tutti gentili telespettatori benvenuti con questo nostro appuntamento estivo con le marche nel pallone con un formato un po' diverso rispetto all'abituale ma d'altronde non ci sono servizi sugli appuntamenti agonistici e quindi parleremo di diversi cose con i nostri ospiti la nuova stagione è già iniziata giovedì scorso ve lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali c'è stato il raduno dell'Ascoli che tra l'altro oggi è partito alla volta del ritiro a Cascia dove tra l'altro disputerà le sue prime partite amichevoli sul piede di partenza la Recanatese giovedì prossimo il primo allenamento al Tubaldi stanno già sudando i giocatori della Vispesaro dal 24 luglio al 12 agosto Cingoli invece ospiterà l'Ancona ma tiene banco ovviamente il mercato anche se lo ripeto spesso lo rimarco spesso mancano 45 giorni e sono tanti alla chiusura della sessione estiva un periodo nel quale può accadere tutto il contrario di tutto parleremo di B ma soprattutto di C e D con i nostri due addette lavori Adriano Polenta buonasera Adriano buonasera grazie per essere intervenuto direttore sportivo ha lavorato ad Ascoli San Benedetto Bologna Torino Trapani da giocatore una bandiera del Catania ma soprattutto mi viene in mente dell'Osimana dei tempi belli poi ne parleremo anche relativamente a un torneo di calcio giovanile che verrà riproposto proprio nei prossimi giorni e con noi anche Gabriele Baldassari ciao Gabriele ben trovato buonasera a tutti allenatore anche per lui un curriculum lunghissimo nelle marche e non solo la premessa come ho già detto Adriano è che tutto un po' è in fase embrionale nel calendario della B tra l'altro che è stato diffuso nei giorni scorsi c'è anche la X relativa al caso Regina in serie C si attendono esclusioni e ricorsi la D chi è in alto mare ma chi a tuo avviso sinora tra tutte le nostre squadre si è mossa meglio e con maggior oculatezza sul mercato anche se ripeto mancano 45 giorni che sono un'eternità per i nostri tempi certo diciamo così allo stato attuale forse le idee più chiare forse sembra averle la Re Canatese che ha un progetto di squadra una continuità tecnica e quindi sta mettendo piano piano dei tasselli per cercare di ripetere l'ottimo campionato dell'anno scorso secondo te Gabriele? ma io sono d'accordo che la continuità tecnica e anche di squadra penso che la Re Canatese sia quella in questo momento più avvantaggiata ha fatto l'acquisto di Melchiorri un acquisto mirato quindi dopo il buon campionato dell'anno scorso secondo me ha messo un tassello importante il colpaccio del mercato quindi fino a questo momento secondo te Melchiorri in generale? sì secondo me sì perché è un giocatore importante perché Ad Ancona ha fatto bene è arrivato insomma al mercato di riparazione ha fatto bene ha fatto dei gol importanti e penso che la Re Canatese sia importante un attaccante del genere con il progetto che leggo vogliono fare con i giocatori che probabilmente arriveranno penso che sia il giocatore adatto Binomio Sbaffo Melchiorri in serie C è in grado potenzialmente di essere un valore aggiunto incredibile sì indubbiamente poi Sbaffo viene da un'annata 14 gol molto positiva quindi magari gli è mancato qualche gol degli attaccanti proprio che magari con Marilungo si aspettavano magari ecco qualcosa di più sono due discorsi un po' diversi Marilungo era assolutamente onestamente una scommessa che non è stata vinta purtroppo nonostante l'impegno di Marilungo stesso con Melchiorri si va veramente su un giocatore non dico all'apice della sua carriera ma ancora nel pieno della sua carriera comunque di questo ne riparleremo invece Adriano la policy dell'Ascoli come si chiama adesso la politica sembra piuttosto chiara squadra giovane si cerca gente non affermata diciamo così ma motivata sono arrivati Millico Massini Luffizi Averi grandi stimoli grandi rischi secondo te sì e no nel senso che probabilmente la politica dettata dalla proprietà è questa e Valentini si sta muovendo bene in questo senso e l'anno scorso ha dato dei risultati abbastanza importanti con la valorizzazione di alcuni ragazzi che adesso hanno un gran bel mercato e quindi credo che questa continuità sia giusta e soprattutto doverosa nel momento in cui si vuole tenere una società diciamo fuori dai problemi economici conosci qualcuno di questi giovani che ti ho citato da Millico Massini Duffizi Averi Millico è un ragazzo che è ex Torino che è qualche anno che diciamo si sta proponendo in prestito ha anche esordito e segnato in Europa League tra le altre cose esatto ma non riesce ancora diciamo a fare il salto di qualità però ancora è discretamente giovane quindi c'è sempre la speranza che questi ragazzi che hanno delle qualità che in espresse da un momento all'altro possono azzeccare l'annata insomma Allora per quanto riguarda la Serie C noi ne abbiamo un po' già parlato Adriano rimango con te perché tu sei un esperto diciamo così di mercato di soldi veri diciamo che questa è la premessa ne girano pochi e forse sempre meno e un po' tutti corregimi se sbaglio stanno alla finestra perché adesso come adesso le pretese sono alte poi si ridimensioneranno fatalmente questo è un po' lo stato dell'arte al momento Sì è così diciamo che in Serie C difficilmente insomma ci sono acquisti che diciamo a titolo oneroso e se sono a titolo oneroso sono veramente cifre basse il problema della C è liberarsi diciamo così dai contratti in essere che è il problema dell'Ancona in questo momento esatto per fare spazio alle nuove entrate è un po' questo il problema di tutti insomma la parte più difficile del calciomercato è sistemare i giocatori che consideriamo in esubero presso altre società questa è la parte più difficile per il direttore sportivo tra l'altro in Serie C succedono davvero cose singolari per non dire peggio in settimana faccio un esempio all'Alessandria annuncia un allenatore un francese René Lobello poi vira su una soluzione interna Fulvio Fiorin Baldini era dato per certo al Perugia poi il Perugia cambia proprietà e quindi Baldini sostanzialmente non sarà l'allenatore del Perugia lo stesso Rimini è completamente fermo non si sa dovrebbe esserci il passaggio delle quote da Rota a Petracca insomma una mezza barahonda purtroppo Gabriele c'è una tua ex squadra la Fermana che in questo momento è in stand by totale siamo oltre metà luglio e qualche campanello d'allarme comincia a suonare forte sì non vorrei che fosse una sorta di scaramanzia perché anche l'anno scorso sono partiti in ritardo e poi hanno fatto un campionato incredibile quindi ma a parte le battute sì sono in ritardo nettamente perché intanto deve anche risolvere il noto dell'allenatore che ancora non sappiamo bene come va a finire si parla di rescissione si parla di di qualche altra figura che dovrebbe arrivare però non c'è ancora chiarezza quindi finché non decideranno chi guiderà la squadra sarà difficile anche fare il mercato perché poi leggo che anche il direttore non è sicuro che rimanga Andriatini quindi devono prima chiarire tante cose devono chiarire tante cose noi abbiamo fatto l'elenco delle squadre insomma che hanno già fissato ritiri molte squadre hanno già fissato il calendario delle amichevoli non dimentichiamo che il 20 agosto parte la Coppa Italia il 27 dovrebbe il condizionale non è casuale partire anche il campionato anche se ricordiamo c'è tutta la questione dei ricorsi e l'ultimo grado di giudizio è il consiglio di stato della giustizia amministrativa che ha già fissato l'udienza per il 29 agosto e quindi non è nemmeno totalmente da escludere un rinvio anche della serie C se si dovesse arrivare dopo tutto l'iter quindi consiglio di stato tribunale amministrativo regionale eccetera non è impossibile escludere il rinvio fatto sta che in questo momento la fermana non ha nemmeno fissato l'inizio della preparazione per i giocatori già sotto contratto siamo un po' Adriano ai soliti discorsi perché e qui mi affido un po' alla vostra esperienza si parla sempre di calcio sostenibile la serie C è storicamente la categoria maggiormente sofferente che strada si deve perseguire per arrivare a questa sostenibilità anche se non c'è stata quest'anno le catombe di altri anni perché abbiamo visto il Siena è stato escluso ma era nella normalità delle cose viste le pendenze clamorose che ha la società toscana c'è stata la rinuncia del Pordenone ma ci ricordiamo che in qualche anno addirittura erano dieci se non di più le squadre che venivano escluse no diciamo che le difficoltà ci sono tutti gli anni c'è dimostrazione di questo tornando diciamo alla fermana che può essere un caso emblematico parliamo di una società che negli ultimi anni ha sempre fatto la serie C bene con un budget molto molto risicato diciamo uno dei più bassi del girone e quest'anno probabilmente si riproporrà così però quest'anno in ulteriore difficoltà c'è credo che i finanziatori si siano un pochino defilati quindi probabilmente si sta cercando il modo di andare avanti anche se con diciamo il minimo budget però loro sono esperti e sono diciamo anche bravi in questo senso a sistemare le cose anche strada facendo certo prima lo fanno e meglio a questo sicuramente però tornando Adriano al discorso di prima diminuire le squadre professionistiche ridisegnare i parametri molto onerosi per partecipare alla C quale potrebbe essere la strada percorribile? sarebbero due le cose o redistribuire le risorse a partire dalla Serie A e a tutto il resto e che mi sembra veramente difficile perché le società quando le società soprattutto di Serie A non ci sentono questo orecchio altrimenti ridurre le squadre le squadre professionistiche e magari inserire quel caro semiprofessionismo che ai tempi funzionava e che probabilmente potrebbe essere ripetibile il semiprofessionismo che voi avete conosciuto Adriano D'Osimo tu a Civitanova Gabriele che comunque serviva a rendere un po' sostenibile il movimento perché a quell'epoca di fallimenti esclusioni non se ne parlava assolutamente indubbiamente indubbiamente adesso è il momento dove magari sei dei presidenti tipo Vigorito del Benevento questi personaggi qua allora riesci a sostenere dei campionati anche importanti se no succede quello che sta succedendo adesso che tante società in difficoltà con veramente diciamo la difficoltà anche di iscrivere la squadra di fare la squadra quindi il semiprofessionismo secondo me potrebbe essere veramente un modo per ovviare a queste cose è che per una radicale ristrutturazione dei campionati per esempio fare una C a girone unico a 20 squadre e poi fare una sorta di altra serie C la vecchia C2 con uno status diverso bisogna passare attraverso forche caudine importanti e davvero non è semplice arrivare a questa soluzione comunque sia ripeto si dovrebbe partire il 20 con la Coppa Italia il 27 con il campionato e per introdurre invece il discorso dell'Ancona c'è stata questa conferenza stampa importante in settimana di Roberta Nocelli nuova amministratrice unica dell'Ancona un po' ridisegnati i compiti e l'assetto societario del Club Dorico sentiamo l'intervista di Ferdinando Vicini proprio con Roberta Nocelli Roberta Nocelli amministratore delegato dell'Ancona come lo era fino a oggi ma da oggi come amministratore delegato unico nuovi compiti per Roberto Ripa si Roberto svolgerà il ruolo di supervisore dell'area tecnica credo abbiamo ritenuto insomma in consiglio che lui avesse quelle capacità giuste l'esperienza giusta le caratteristiche giuste per poter svolgere questo ruolo che è importantissimo per la crescita del club quindi questa è una decisione condivisa in consiglio di amministrazione noi ci aspettiamo tanto insomma tutta la parte tecnica ecco più in dettaglio di che cosa si occuperà Roberto Ripa da oggi in poi allora Roberto insieme al direttore Miccio la Donadel si dovranno occupare della costruzione della squadra ma questo è avvenuto anche lo scorso anno sarà un supervisore anche per conto del presidente sugli acquisti sulle vendite dei calciatori sarà un supervisore del settore giovanile quindi avrà il compito insomma di supervisionare i nostri giovani le partite gli allenamenti di essere da supporto a Donadel su tutte le strumentazioni tecnologiche e si occuperà della prima squadra come per esempio per il ritiro ecco una decisione voluta dal presidente Tony Diong alla base della quale ci sono dei problemi che sono emersi a livello di budget diciamo che è più una rivoluzione organizzativa nel set nell'asset della società c'era bisogno di distinguere tra virgolette queste diverse figure tra essere amministratore e una persona che si fosse solo occupata della supervisione tecnica e questa è stata la scelta che è stata fatta ecco il prossimo futuro ci sono le amichevoli la presentazione di Donadel è un mercato che comunque va avanti assolutamente sì il direttore è impegnatissimo in questa fase stiamo organizzando per la conferenza stampa proprio in base ai suoi impegni per poter presentare sia lo staff il mister ovviamente che non aveva avuto modo di fare conferenza e presentare anche tutto lo staff al completo con il direttore che poi ovviamente parlerà di acquisti gestioni e quant'altro ultima domanda cosa cambia da oggi nel lavoro di Roberta Nocelli? praticamente nulla nulla eh sì proprio così ovviamente il mercato dell'Ancona è in una fase di stallo sono arrivati Marenqua che chiamano anche il grosso deve ancora essere fatto però Adriano il problema dei problemi è proprio quello che accennavi tu tantissimi giocatori credo 18-19 sotto contratto alcuni non fanno più parte del progetto tecnico uno per tutti Simone De Santis che è corteggiato chiaramente anche da altri club e poi si potrà anche pensare a giocatori importanti in entrata si parla di Energia della Carrarese si parla anche di altri profili come Zambataro però non è semplice operare in questo momento anche per un direttore sportivo? no non è semplice come dicevo prima la parte più difficoltosa è diciamo così trovare la sistemazione a questi ragazzi che escono dal progetto tecnico però tornando a Lancona bisogna anche diciamo così ampliare un pochino il discorso perché chiaramente gli investimenti che Lancona sta facendo Lancona Società sta facendo riguardano anche un pochino il centro sportivo quindi chiaramente sono risorse che verranno messe da parte per far avanzare quel progetto che io ritengo fondamentale e quindi chiaramente questo fa un pochino a depauperare le risorse che si si mettono nel mercato però credo che andando avanti di pari passo può venire fuori una bella realtà se non nell'immediato vedo che diciamo così gli orizzonti temporali sono di tre anni per la serie B secondo me è un'ottima cosa e diciamo che le idee mi sembra abbastanza chiare però il problema Gabriele come abbiamo detto anche altre volte i nostri colloqui telefonici è che si prospetta una serie C estremamente competitiva più competitiva dell'anno scorso perché dobbiamo partire dalle squadre che comunque hanno sfiorato la promozione parliamo di Cesena e Virtus Sentella delle retrocesse perché se la Spal prende Mimmo Di Carlo e addirittura Mirko Antenucci che avrà pure 38 anni ma Mirko Antenucci se è in forma in serie C ti fa 20 gol subito se la serie C la farà anche il Perugia e ci sarà la nuova proprietà il Grifo partirà sicuramente per vincere il campionato le matricole come dico spesso ci sono state tre retrocessioni di provinciali non dimentichiamo che sono le retrocesse Montevarchi Imolese e Sandonato Tavarnelle queste non ci saranno più l'Arezzo sta facendo una buona squadra il Pineto non credo che con un presidente così ambizioso farà un ruolo da comprimaria se mettono nel girone centrale anche il Pescara di Zemana figurati quindi la sticella le squadre che hai detto sicuramente probabilmente sarà così saranno così non so la Spal magari che è quella più a nord però le altre penso che faranno parte del girone centrale quindi non dimentichiamo che la Spal il famoso anno della maceratese di Bucchi era nel girone centrale se ti ricordi bene sì sì ma infatti e quindi se la geografia è quella dovrebbe esserci insomma certo certo poi detto bene anche altre squadre le ne ho promosse io ho molta fiducia di quello che farà il Pineto perché al di là delle capacità economiche l'entusiasmo che ha il Presidente io ho due o tre giocatori che conosco che ho avuto che giocano lì e mi ha detto il Presidente è in un momento proprio di euforia che ci abbiamo aspettato di tutto quindi sarà sicuramente uno dei protagonisti poi come hai detto tu il Perugia sono retrogeste squadre importanti quindi diciamo per farla più semplice che non troviamo squadre a parte la Fermanaca ha i suoi problemi Rimini è totalmente fermo in attesa del cambio di proprietà se viene messo in questo giro nel Fiorenzuola ancora mi pare ma il Fiorenzuola farà la solita squadra sostanzialmente giovane cercando di prendere giocatori di prospettiva e basta però andiamo per esempio in Toscana la Lucchese ha cambiato proprietà e parla di fare una squadra importante la Carrarese pare intenzionata a prendere Carpani e comunque vuole fare una squadra importante quindi sostanzialmente con pagini deboli certo poi non dimentichiamo la Lucchese adesso ha cambiato il direttore ha preso Frara e ha preso l'allenatore che era nella primavera che me ne parlano benissimo e Frara io ho avuto un giocatore è uno che il direttore anche penso che lo conosca è un ragazzo apposto un modo che conosce di calcio e sta di calcio e sicuramente a livello di mercato conosce tantissimi giocatori e secondo me anche la Lucchese ce la dovremmo preoccupare per quando la affronteremo con le squadre marchicene senza tralasciare il gubbio che ho visto tante volte l'anno scorso Adriano no perché se confermi Braglia vuol dire che farà una squadra forte sì ma anche lì c'è un presidente credo ambizioso che sta dando continuità e certo se se confermi un allenatore tipo Braglia chiaramente le ambizioni ci sono poi non dobbiamo dimenticare il Cesena insomma sarà un campionato veramente livellato sembra verso l'alto e quindi bisognerà che le nostre squadre marchigiani si attrezzino bene perché sarà dura ecco perché quando Cianni è venuto qui domenica scorsa e parla comunque di obiettivo prioritario salvezza forse ha ragione perché comunque no Adriano bisogna sempre metterne cinque dietro per evitare il play out e non è una cosa praticamente molto molto semplice sì diciamo che l'area canatese ha fatto di questo diciamo di questo modo di operare quindi con l'estrema prudenza e senza proclami la loro bandiera è stata la loro forza quindi fa bene Cianni a dire questo anche se tutti noi ci aspettiamo l'area canatese una bella una che possa lottare su ogni campo come ha fatto l'anno scorso e difficilmente essere messa in difficoltà delle altre squadre sì ci sono anche altre squadre che potenzialmente ancora sono un pochetto indietro diciamo a livello di acquisti però per la sua storia no Gabriele il Pontedera che mi pare che è 11 anni che faccia questo campionato senza mai fare i play out un dicesimo anno un dicesimo anno addirittura quindi forse è un modello da seguire assolutamente poi è una di quelle squadre come dicevi tu che ha investito sempre nei giovani quindi ha fatto sempre squadre con due o tre anziani e intorno a tanti giovani importanti di qualità molto intelligenti quindi la proprietà va avanti con questo discorso ripeto sarà un campionato difficile confido molto nel lavoro per quanto riguarda la regna tese nell'entusiasmo del presidente e del lavoro del direttore però sono sicuro con le riconferme del diciamo così dell'ossatura parlo di Ferrante raparo sbaffo che sono quelli magari che anche a livello di spogliatoio sono fondamentali a livello di spogliatoio sono molto importanti i giocatori che arrivano si sentono subito a casa perché loro sono molto bravi io li ho avuto i tutti meno che sbaffo li ho avuto i 4-5 quindi li conosco benissimo sono ragazzi eccezionali e confido in questo poi sai non sempre ha dimostrato il lecco l'ha dimostrato tante altre cose che non sempre magari chi spende di più poi fa bene o male quindi dobbiamo aspettarci che si prendano giocatori importanti per il progetto di Giovanni di Pagliari e così stanno facendo e sono sicuro che alla fine sarà un campionato sicuramente da lottare sicuramente da difficile però pensare al ganadese possa fare un'ottima figura sì perché poi alla fine come vedete le squadre le fanno tutte anche quelle che sono in difficoltà ripetiamo oggi è il 16 luglio e quindi per arrivare al 27 agosto data di partenza e poi al 31 il giorno della fine del mercato c'è veramente un'eternità e molte volte la fretta è anche cattiva consigliera quindi certe volte bisogna andarci un po' anche cauti su queste cose sì è così bisogna essere cauti in genere si imposta un discorso di questo tipo si cercano magari i giovani per portare avanti il progetto dei giovani che danno la possibilità del minutaggio quindi si cercano i giovani per impiantare appunto questo progetto dopodiché si vanno a cercare quei due o tre giocatori più importanti che possono far fare il salto di qualità alla squadra e questo ci sono certi giocatori che magari traccheggiano nel senso che sono giocatori che possono avere dell'ambizione anche di B o comunque di una C alta e difficilmente ti dicono sì subito quindi bisogna essere equilibrati e tempestivi in questo ma diciamo non è che questo è il mestiere ma voglio dire ci sono molti abili i miei colleghi che stanno lavorando ovviamente una battuta su questo oggetto del desiderio è quasi fatta per Ciro Capasso tu mi dicevi che hai avuto volo insomma di vederlo no? talento interessantissimo noi ripetiamo spesso che passare dalla primavera alla Serie C è cambiare mondo sostanzialmente perché bisogna essere pratici in Serie C bisogna essere concreti non è facile forse anche meno belli però questo è un ragazzo che i numeri li ha no? Sì i numeri li ha è un ragazzo interessante ma soprattutto deve chi esce dalla primavera deve trovare diciamo un tecnico che crede che crede in questo ragazzo e che soprattutto lo aiuti a superare quelle difficoltà che appunto sono la differenza tra un calcio pro e un calcio soltanto giovanile ma in questo Giovanni Pagliare ha dimostrato di essere veramente importante e quindi non c'è nessun dubbio su questo la coppia certamente la coppia Capasso Piscitella secondo me sarebbe veramente una coppia importante per attuare il modulo di gioco di Giovanni con le spalle Giampaolo che comunque se liberato da problemi fisici potrebbe dare una mano importante Gabriele come un allenatore deve accompagnare un ragazzo che viene dalla primavera ricchissimo di talento questo fuori discussione ma che si troverà di fronte non il ragazzino avversario ma giocatori ben fatti strutturati che non ti fanno passare ma intanto bisogna vedere caratterialmente la predisposizione del ragazzo ci vuole molta pazienza secondo me all'inizialmente molta pazienza per fargli capire che il mondo pro è diverso dal mondo diciamo primavera che pur essendo professionistica però è sempre a livello giovanile quindi si vada più magari sì qualcuno ha anche il risultato parliamoci chiaro perché tante primavera e poi giocano anche per quello però se vogliamo vedere la logica dovrebbe essere soltanto una scuola per poter formare dei ragazzi per arrivare in prima squadra e come diceva prima Adriano sono fiducioso anche che Giovanni possa e sono sicuro che lo farà istruire questi ragazzi perché la rega però è sicuramente un campionato importante anche per quello che dicevamo prima vai a incontrare la Spalla il Cesena dove si sono giocatori importanti furbi scaltri e non basta essere bravi tecnicamente in serie cima ci vuole anche un attimo di malizia e furbizia meno giocate più concretezze insomma praticamente anche perché poi veramente ti confronti anche con piazze estremamente importanti poi vedremo ovviamente quali saranno anche le altre prossime mosse di mercato della Re Canatese e resto con te Gabriele perché si preannuncia anche una serie di importante vedremo anzitutto quale sarà il destino del Fano a livello di eventuale ripescaggio terza ingradatoria lo ricordo ancora la società Granata la seconda il Nardò ha rinunciato c'è il punto interrogativo della prima che è l'Alcione Milano l'Alcione Milano che in teoria ha avuto la disponibilità del sindaco del capoluogo Lombardo Sala per giocare all'arena civica di Vera e quindi ci sarebbe l'intenzione di farla certamente il Fano resta in attesa di approfittare di eventuali possibilità staccando sempre questo famoso assegno a fondo perduto di 300.000 euro perché senza di quello non si va da nessuna parte di certo possiamo dire questo tra le favoritissime ci sarà questo nuovo San Benedetto Calcio che in settimana ha annunciato colpi di mercato importanti Paolini Alessandro Sbardella Battisti lo stesso Cardoni che tu conosci perché è stato a Montegiorgio non possiamo non inserirla come in pole position o quasi credo in questo momento penso di sì in questo momento è quella che a livello di mercato insieme a Roma City che sta facendo che ieri è stato confermato che farà la Serie D sta facendo un mercato importante c'è Morizzi poi che lo conosco benissimo a Roma City è andato a allenare lui e ho ricevuto anche delle chiamate da lui per dei giocatori importanti che vogliono prendere quindi sono sicuro che anche loro faranno un grande mercato però la nostra società potentissima potentissima con un centro sportivo importante campo bello d'allenamento campo bello per giocare un ambiente ideale per fare calcio però la nuova Samba diciamo sta facendo anche lei un mercato importante Alessandro in prospettiva con Cardoni che nel 2004 un ragazzo interessante che l'anno scorso è cresciuto moltissimo e penso che possa crescere ancora quindi mercato intelligente con direttore che sa quello insomma sa come si vince i campionati perché già l'ha fatto quindi io penso che ci siano tutte le carte in regola per poter far bene sulla piazza non diciamo niente perché la conosciamo però a mio avviso Adinano sta nascendo anche perché dobbiamo partire anche da quello che è successo l'anno scorso perché il competitor vero del Pineto è stata la Vigor Senigallia e la Vigor Senigallia secondo me sta facendo un mercato molto molto intelligente ed equilibrato perché è partita dalle riconferme fondamentali la prima quella di Aldo Clementi ovviamente l'allenatore poi ovviamente parliamo di Pesaresi Marini Del Rico altri arrivi come Capezzani e soprattutto forse a livello di sorpresa è Sabah Kerioda questo ragazzo che secondo me è una promessa totale corteggiatissimo che invece rimane a Senigallia forse dobbiamo inserire anche la Vigor tra le protagoniste sicure della prossima stagione sì io direi proprio di sì direi proprio di sì perché l'anno scorso ho avuto modo di vederla diverse volte è stata la vera diciamo avversaria del Pineto e anche a sorpresa diciamo mentre invece quest'anno penso che si possa confermare perché ha praticamente confermato il grosso della squadra e lo sta integrando lo sta integrando bene diciamo che parlando degli ultimi diciamo così acquisti della Vigo Senigale c'è anche questo ragazzo che conosco bene che viene dall'Osimana questo Sheffer 2004 un italo argentino che diciamo su suggerimento di un intermediario ho suggerito io all'Osimana e ha fatto veramente da dicembre un ottimo campionato un ragazzo che va seguito che certamente la Serie T sarà di passaggio per lui perché è un ragazzo che vuole arrivare a motivazioni e qualità quindi Senigali ha subito messo le mani su questo ragazzo gli darà una grande mano su Carriota ti ha sorpreso che è rimasto a Senigali? un pochino sì anche se il problema di Carriota è la nazionalità cioè il non essere UE quindi chiaramente questo è un per il mercato italiano è praticamente un divieto di transito mentre invece per l'estero probabilmente dovrà fare qualcosina di più e credo che lui sia stato intelligente ad accettare ancora di rimanere per confermarsi e poi magari versi aprire scenari più importanti secondo te Gabriele ha l'estimate del grande giocatore Carriota? secondo me può far bene sicuramente può far bene quest'anno ha fatto un grande campionato ma è un giocatore che sposta anche un po' di equilibri perché sull'uno contro uno è molto importante quindi crea sempre superiorità sugli esterni molto bravo a venire dentro un giocatore importante e il fatto che l'abbiano confermato secondo me dà veramente quel quid in più poi ha preso Cabezani che secondo me è un giocatore che è molto importante in una rosa perché può fare tanti ruoli più ruoli è un ragazzo un grande lavoratore un ragazzo serio quindi secondo me ha fatto un altro ottimo acquisto direttore Moroni per poter fare quel passettino in più un nuovo step diciamo chiaramente poi qui vedremo quale sarà il girone il fossombrone sta iniziando a muoversi cercando di partire ovviamente dalle conferme della squadra dell'anno scorso dicevamo punto interrogativo sul girone ma alla fine si dice sempre che sarà rinnovato ed è vent'anni che sostanzialmente rimane praticamente sempre lo stesso se così fosse chiaramente dovremmo vedere con grande attenzione il campo basso di Mosconi perché sicuramente torna una grande piazza con un ottimo allenatore che sta facendo anche degli ottimi acquisti se ci sarà il L'Aquila che invece qualche volta è stato dirottato nel girone delle laziali sicuramente sarà una delle protagoniste insomma morale della favola anche qui si preannuncia un campionato molto competitivo ed estremamente competitivo adesso ci concediamo gli ultimi minuti della nostra prima parte perché come ho già preannunciato in altre occasioni torna un torneo giovanile molto interessante parliamo del secondo memoria Lanari Bellezza per ricordare qui abbiamo Adriano Polenta che è Osimano Doc due figure compiante come Mauro Lanari e Roberto Bellezza scenari saranno il Diana di Osimo e il Muzio Gallo di Passatempo ci saranno sei squadre che si daranno battaglia dal 31 luglio al 5 agosto tutti i club professionistici Inter, Lazio, Fiorentina Bologna Atalanta e Re Canatese che quindi saranno ai nastri di partenza noi ricordiamo anche un po' i vecchi fasti del torneo Lanari Adriano non so se tu hai avuto modo di seguirlo ma penso sicuramente di sì è già importante averlo riproposto io credo che sia diciamo fondamentale importante che sia stato recuperato questa tradizione diciamo questa questa voglia di ricordare queste due persone tragicamente scomparse ma diciamo che l'amministrazione comunale di Osimo si è impegnata fortemente per questo insieme all'Osimana quindi siamo felici insomma che possa svolgersi questo torneo anche quest'anno con poi delle squadre veramente importanti che possono portare anche Lustro ad Osimo lo scorso è stato frequentatissimo da osservatori curiosi persone tifosi e quindi senz'altro quest'anno si ripeterà perché come ho già detto ci sono squadre importanti che sono seguitissime io ricordo una finale al Diana Inter Milan mi sembra qualche decennio fa che lo stadio era praticamente tutto esaurito forse come ai tuoi tempi in C2 sì sì era così una volta il torneo lanari a suo tempo aveva raggiunto veramente un'importanza notevolissima anche dal punto di vista numerico poi certamente per sostenere questo tipo di organizzazione insomma si è dimostrato un pochino difficile e poi piano piano come tutte le cose si era un po' diciamo così sgonfiato perché chiaramente nel tempo ci vogliono appassionati e risorse economiche per portare avanti questo discorso fortunatamente è stato ripreso anche se magari soltanto con 6 squadre perché a sua volta a suo tempo erano molti di più erano arrivati a 16 ma se non di più addirittura però adesso secondo me piano piano si sta riprendendo ed è una bella vetrina per Osimo sì credo che sia importante anche per i giovani Gabriele avere vetrine come questa una volta c'era anche il Marozzi Martellini ma il lanari di quel tempo Marozzi Martellini che fece scoprire a tutti per esempio Verratti giusto per dirne uno che a quel tempo era nel Pescara ma ritornando a quell'Inter Milan c'era per esempio in campo De Zerbi se non ricordo male sì sì ma è stato sempre un torneo importante come dice Adriano forse dopo il Viareggio uno a ruota se la giocava se la giocava il Viareggio era un altro periodo invece in quel periodo le squadre sceglievano il lanari proprio per la loro preparazione anche per la bellezza probabilmente dei campi ma guarda io ho avuto un buon rapporto con Roberto bellezza quindi ne parlavo tante volte andavo da lui dove c'aveva la sua il suo magazzino quella volta andavamo a parlare e avevano un entusiasmo incredibile per chiamare le squadre così quindi riproporlo come dice Adriano è una cosa importante soprattutto per il calcio giovanile visto che insomma vediamo ieri sera ho visto l'anterni 19 fortunatamente che è andata in finale è la prima volta che vedo tutti italiani perché è una nazionale se no quando vado a vedere le primavere come beh il Lecce ricordiamo mi pare che ha fatto la finale primavera erano tutti stranieri non c'era un italiano non c'era un italiano non dico la squadra ma io ultimamente ho visto una squadra primavera c'aveva il secondo portiere italiano e un terzino sinistro gli altri tutti stranieri quindi anche qua ci saranno stranieri però ben vengano perché poi qualche giocatore magari viene visto viene proposto viene seguito e sono domani importanti diciamo che la globalizzazione va bene ma non dimentichiamoci gli italiani insomma perché in fondo parliamo di campionato primavera italiano no? in teoria diciamo che quest'anno si è cercato di intervenire con qualche piccolo intervento cercando di preservare è un palliativo secondo te? un pochino sì però potrebbe essere un primo passo giusto quello speriamo che possa essere possa essere portato avanti altrimenti il lavoro di selezionatore della squadra nazionale sarà sempre più difficile è così assolutamente così però qualche segnale timido di risveglio no? l'Under 20 l'Under 19 insomma lo stiamo vedendo e speriamo che sia ben augurante per il futuro bene io ringrazio Gabriele Baldassare grazie per il suo intervento ringrazio Adriano Polenta al piacere di rivedervi ovviamente nel corso delle nostre trasmissioni adesso come sempre ci sarà una breve pausa poi nella seconda parte parleremo con altri ospiti ovviamente di eccellenza e promozione perché anche lì si stanno profilando dei tornei molto molto interessanti grazie per essere stati con noi e la linea che può passare alla regia